Ciao ciao! Anche io faccio parte della Logi Fashion Academy. Si tratta di una fantastica novità che ci farà incontrare online in presenza per lavorare insieme in un progetto estremamente creativo. La Logi Fashion Academy è un luogo all'interno del quale creatività, upcycling e tecnologia si incontrano. Esattamente come trasformi un capo d'abbigliamento in maniera creativa, anche il tuo mouse e la tua tastiera Pop Icon diventano strumenti per esprimere la tua creatività al massimo. Logitech Pop Icon consente infatti agli utenti di personalizzare la propria esperienza digitale con colori vivaci e funzionalità intuitive, incoraggiando la creatività di ognuno di noi. Inoltre al progetto Logi Fashion Academy parteciperanno diversi content creator che daranno il loro contributo in termini di upcycling. Nei prossimi giorni vi comunicherò le date dei miei workshop che potrete seguire in live e in presenza. Perciò restate aggiornati su tutte le novità.